entriamo in uno dei nostri allevamenti di suini l'allevamento va dalla nascita fino all'età adulta dell'animale attraverso varie fasi tra cui lo svezzamento appena nati i piccoli rimangono con la scrofa il tempo necessario perché gli venga dato il colostro successivamente sono collocati per circa due mesi nei box per lo svezzamento dove hanno libero accesso a cibo ed acqua al termine dello svezzamento in molti allevamenti gli animali dimorano in box dedicati dotati di una parte interna ed esterna idonee a garantire agli animali di riposare su superfici pulite il box viene arricchito con materiale che serve a soddisfare il bisogno di giochi dei sui netti in questo caso sono appesi tronchetti di legno l'alimentazione liquida a base di mais viene somministrata tramite un sistema computerizzato due o tre volte al giorno tutti i suini possono accedere contemporaneamente alla mangiatoia evitando competizioni ogni box è dotato di abbeveratoio con acqua sempre a disposizione questo è quello che accade nei nostri allevamenti ogni giorno perché il benessere degli animali è nell'interesse di tutti punto di pa Este telefono un'interesse di soli un'interesse di soli e inf trainsata raffrario ok ok ora